E' stata la risposta alla lunga serie di fatti criminali tra furti in abitazioni, rapine e scippi avvenuti nel centro urbano della città e nella frazione di San Leone. La decisione del maxi-controllo è stata presa dal questore Giuseppe Bisogno di concerto con la prefettura. Un'attività straordinaria necessaria per dare così un importante segnale di presenza dello Stato. Dalle 23 di ieri sera e fino alle 5 di questa mattina la polizia di Stato ha cinturato e setacciato a Grigento e quartieri periferici. Ovunque posti di blocco e poi perquisizioni domiciliari, personale e veicolari, controlli a pregiudicati, sorvegliati speciali e cittadini stranieri. Particolare attenzione anche all'eccessivo consumo di sostanze stupefacenti e alla posizione di alcune france di extracomunitari spesso coinvolte in violente risse. Impegnati più di 100 agenti tra squadra mobile, sezione volanti, polizia stradale, polizia amministrativa, reparto anticrimine di Palermo e con il supporto di due unità cinofile. Gli obiettivi monitorati sono stati le principali strade cittadine e i luoghi di ritrovo dei giovani. Interessato anche il centro storico tra Via Tenea, Porta di Ponte e Via Pirantello. Accertamenti amministrativi sono stati effettuati ad alcuni locali notturni, bar, pub, sale e giochi e luoghi di ritrovo di cittadini extracomunitari. Nel dettaglio sono state identificate 247 persone, tre quelle denunciate, una segnalata alla prefettura di Agrigento per assunzione di sostanze stupefacenti, controllati 171 autoveicoli, 12 le perquisizioni effettuate, 5 gli esercizi pubblici controllati, 24 le multe elevate per violazione al codice della strada, 5 veicoli sequestrati, una patente ritirata per guida e stato di brezza. In materia di immigrazione, 5 cittadini stranieri denunciati.